www.cimbella.it 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 No, 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 le buttate. Guarda, tu, te lo continui? Dai, 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 non lo fa uguale a dirizzare. Va bene. Fate passare quelli sulla destra. Non ci bella più la sinistra. Non ci bella più la sinistra. Dalla parte di destra tirati sempre, puoi dire a cascata. Io ho tirato dentro. Grazie per la visione!